Capitolo 7 Dagli spettatori più vicini all'aggressione si levarono delle urla. Arachne divenne bianca come un lenzuolo, mentre lasciava cadere il panino e tentava di afferrarsi il collo. Il sangue le colò dalle dita quando la ragazza del distretto 10 la lasciò andare con una leggera spinta. Arachne fece un passo indietro, girò su se stessa e tese una mano gocciolante verso il pubblico in un'implorazione di aiuto. I presenti erano troppo sbalorditi o troppo spaventati per intervenire. Molti si allontanarono quando lei cadde in ginocchio e cominciò a dissanguarsi. La prima reazione di Coriolanus fu di ritrarsi come gli altri, aggrapparsi alle sbarre della gabbia delle scimmie per non cadere, ma Lucy Gray si bilò «Aiutala!». Gli tornarono in mente le telecamere che trasmettevano in diretta per gli spettatori di Capitol City. Non sapeva proprio cosa fare, ma non voleva che lo vedessero confuso e impaurito. Il suo terrore era una questione personale, non andava mostrato in pubblico. Obbligò le gambe a muoversi e fu il primo a raggiungere Arachne. Lei gli afferrò la camicia mentre la vita abbandonava poco a poco il suo corpo. «Oh, medico!», gridò Coriolanus, adagiandola a terra. «C'è un dottore! Per favore, qualcuno mi aiuti!» Premette una mano sulla ferita per fermare il sangue. Ma la tolse quando Arachne rantolò come se stesse soffocando. «Presto!», urlò verso la folla. Due pacificatori venivano nella sua direzione facendosi largo a spallate, ma erano lenti, troppo lenti. Coriolanus gettò una rapida occhiata indietro, giusto in tempo per vedere la ragazza del distretto dieci recuperare il panino al formaggio e dargli un morso rabbioso prima che le pallottole la trapassassero, sbattendola contro le sbarre. Scivolò a terra mentre il suo sangue si mescolava a quello di Arachne. Pezzetti di cibo mezzo masticato le caddero dalla bocca e finirono a galleggiare nella pozza rossa. La folla ondeggiò all'indietro quando le persone, in preda al panico, tentarono di abbandonare la zona. La luce, sempre più tenue, accresceva la foga. Coriolanus vide un bambino inciampare e la gente in fuga calpestargli una gamba prima che una donna lo strappasse via da terra. Altri non furono così fortunati. Le labbra di Arachne formavano parole senza suono impossibili da decifrare. Quando smise di respirare all'improvviso, Coriolanus pensò che fosse inutile cercare di rianimarla. Se le avesse soffiato aria in bocca, non sarebbe semplicemente uscita dalla ferita aperta del collo. Festus era vicino a lui adesso e i due amici si scambiarono sguardi impotenti. Mentre si allontanava dal corpo di Arachne, Coriolanus trasalì nel vedere la sostanza rossa e lucida che gli copriva le mani. Si girò e escorse Lucy Gray raggomitolata contro le sbarre della gabbia. Il viso nascosto nella gonna abalse, il corpo scosso dei tremiti, e si rese conto che anche lui stava tremando. Era così che stavano le cose. La scia di sangue, il sibilo delle pallottole, le urla della folla gli facevano un po' di rivivere i peggiori momenti della sua infanzia. Gli stivali dei ribelli che correvano rumorosi per le strade. Lui e la signora nonna bloccati dagli spari. Corpi morenti che si contorcevano intorno a loro. Sua madre e il letto imbrattato di sangue. Le cariche durante le rivolte per il cibo. I volti fracassati. Le persone gementi. Si preoccupò di nascondere subito la paura. Stringere i pugni lungo i fianchi. Fare dei respiri lenti e profondi. Lucy Gray cominciò a vomitare. E lui si voltò dall'altra parte per tenere sotto controllo il suo stomaco. Apparvero gli infermieri. Che misero aracne su una barella. Altri visitarono chi era stato colpito da proiettili vaganti o schiacciato dalla folla. Proprio di fronte a lui c'era una donna che gli chiedeva se fosse ferito. Se quello che aveva addosso fosse il suo sangue. Dopo aver confermato che così non era. Gli diedero un asciugamano per ripulirsi e passarono oltre. Si stava strofinando via il sangue quando scorse Sejanus inginocchiato vicino al tribuno morto. Aveva allungato una mano attraverso le sbarre. E sembrava stesse spargendo una manciata di qualcosa di bianco sopra il corpo. Mentre murmurava alcune parole. Coriolanus vide la scena solo di sfuggita, prima che un pacificatore arrivasse a portare via Sejanus. I soldati affollavano la zona ormai, facendo sgombrare gli ultimi spettatori e allineare i tributi sul fondo della gabbia con le mani sulla testa. Più calmo, Coriolanus tentò di attirare l'attenzione di Lucy Gray. Ma i suoi occhi rimasero fissi a terra. Un pacificatore lo prese per le spalle e gli diede una rispettosa ma decisa spinta verso l'uscita. Si ritrovò quindi a seguire Festus lungo il vialetto principale. Si fermarono a una fontanella e lavorarono un altro po' per togliersi il sangue di dosso. Nessuno dei due sapeva cosa dire. Arachne non era forse la persona che preferiva, ma era sempre stata presente nella sua vita. Avevano giocato insieme da piccoli, erano stati alle rispettive feste di compleanno, avevano fatto la fila per le razioni, frequentato la scuola insieme. Lei si era vestita di pizzo nero da capo a piedi per il funerale di sua madre. Lui aveva festeggiato il diploma di suo fratello solo l'anno prima. Faceva parte della vecchia guardia benestante di Capitol City. Perciò era una di famiglia. E non era obbligatorio che i familiari ti piacessero. Il legame era scontato. Non sono riuscito a salvarla, disse. Non sono riuscito a fermare il sangue. Non credo che ci sarebbe riuscito nessuno. Almeno tu ci hai provato, è questo che importa. Lo consolò Festus. Clemenzia, ancora turbata e tremante, li raggiunse. E i tre ragazzi si diressero verso l'uscita dello zoo. Venite a casa mia, disse Festus. Ma quando arrivarono al suo palazzo, all'improvviso lui scoppiò in lacrime. Lo guardarono entrare in ascensore e gli augurarono la buonanotte. Fu solo mentre riaccompagnava Clemenzia che a Coriolanus tornò in mente il progetto da sottoporre alla dottoressa Gol. La proposta di inviare cibo ai tributi nell'arena e la possibilità di scommettere su di loro. Ma di sicuro non se lo aspetterà ancora per domani mattina, disse Clemenzia. Stanotte non ce la farei. Non riuscirei neanche a pensarci. Sai, senza Aracne. Coriolanus si dichiarò d'accordo, ma tornando a casa, si mise a riflettere sulla dottoressa Gol. Era proprio il tipo da punirli per non aver rispettato una scadenza così importante, a prescindere dalle circostanze. Forse era il caso di cominciare a scrivere e buttare giù qualcosa, tanto per andare sul sicuro. Una volta salite le dodici rampe di scale fino all'appartamento, trovò la signora nonna sconvolta, impegnata a inveire contro i distretti e a far prendere aria al suo vestito nero migliore per il funerale di Aracne. Si lanciò su di lui, dandogli dei colpetti sul petto e sulle braccia per assicurarsi che fosse in corume. Tigris piangeva e basta. Non riesco a credere che sia morta. L'ho vista solo oggi pomeriggio al mercato mentre comprava quell'uva. Coriolanus le confortò e fece del suo meglio per tranquillizzarle sulla propria incolumità. Non succederà un'altra volta. È stata una specie di fatalità. Adesso è molto probabile che le misure di sicurezza saranno ancora più rigide. Quando le acque si furono un po' calmate, Coriolanus andò nella sua camera. Si tolse la divisa macchiata di sangue e si spostò in bagno. Sotto l'acqua quasi ustionante della doccia, si strofinò via dal corpo gli ultimi residui del sangue di Aracne. Un'ondata di singhiozzi gli squassò il petto, ma poi passò. E lui non avrebbe saputo dire se a causargli quel dolore fosse stato il dispiacere per la morte della compagna o l'infelicità per i suoi problemi personali. Un insieme delle due cose, forse. Tirò fuori una vestaglia di seta appartenuta a suo padre e decise di provare a scrivere il progetto. Non sarebbe mai riuscito a dormire, non con il gorgoglio della gola di Aracne ancora nelle orecchie. Nessuna cipria profumata di rose avrebbe attenuato quella sensazione. Immergersi nel compito lo aiutò a calmarsi. E comunque preferiva lavorare in solitudine, senza dover glissare diplomaticamente sulle idee dei suoi compagni. In assenza di interferenze, elaborò una proposta semplice ma solida. Riflettendo sulla discussione avuta in classe con la dottoressa Goll e sull'entusiasmo con cui gli spettatori avevano dato da mangiare ai tributi affamati allo zoo, si concentrò sul cibo. Per la prima volta, gli sponsor avrebbero potuto acquistare alimenti, pane, pezzi di formaggio, che tramite un drone sarebbero stati consegnati a un tribuno specifico. Una commissione appositamente creata avrebbe controllato la natura e il valore di ogni articolo. Gli sponsor sarebbero stati cittadini di Capitol City di comprovata rispettabilità, non direttamente collegati ai giochi. Questo escludeva strateghi, mentori, pacificatori incaricati di sorvegliare i tributi e i parenti stretti di ognuna delle suddette parti. Quando arrivò alla sua idea delle scommesse, consigliò che una seconda commissione creasse una sede dedicata per permettere ai cittadini di scommettere ufficialmente sul vincente, fissasse le quote e supervisionasse i pagamenti ai vincitori. I profitti di ciascun programma avrebbero coperto i costi dei giochi, rendendoli sostanzialmente gratuiti per il governo di Panem. Coriolanus lavorò senza interrompersi fino all'alba del venerdì. Quando i primi raggi di sole entrarono dalla sua finestra, indossò una divisa pulita, si mise il progetto sotto il braccio e uscì di casa il più silenziosamente possibile. La dottoressa Gohl ricopriva molti ruoli, tra mansioni di ricerca, militari e accademiche. Quindi fu costretto ad azzardare un'ipotesi su dove potesse trovarsi la sua scrivania. Dal momento che il progetto riguardava gli Hunger Games, raggiunse l'imponente costruzione nota come Cittadella, sede del Dipartimento della Guerra. I pacificatori in servizio non avevano la minima intenzione di lasciarlo entrare nella zona di massima sicurezza, però gli garantirono che la proposta sarebbe stata messa sulla scrivania della dottoressa Gohl. Era il meglio che potesse fare. Mentre tornava verso il corso, lo schermo che all'alba mostrava solo il sigillo di Panem prese vita con gli eventi della sera precedente. Vennero trasmesse più e più volte le stesse scene. Il tributo che tagliava la gola da Racne, lui che accorreva in suo aiuto, l'uccisione dell'assassina. Si sentiva stranamente distante dalla vicenda, come se tutte le sue riserve emotive si fossero esaurite con la breve crisi di pianto nella doccia. La sua prima reazione alla morte di Racne era stata piuttosto deludente, perciò fu sollevato nel vedere che le telecamere avevano registrato soltanto il suo tentativo di salvarla, gli attimi in cui appariva coraggioso e responsabile. Chiunque altro avrebbe notato il tremito che lo scuoteva solo se lo avesse cercato con attenzione. Fu particolarmente soddisfatto quando scorse una breve sequenza in cui Livia Kerdio si sbracciava per farsi largo tra la folla mentre risuonavano gli spari. Al corso di retorica, una volta Livia aveva attribuito la sua incapacità di capire il significato più profondo di una poesia al fatto che era troppo egocentrico. Assurdo che proprio lei, tra tutti, gli muovesse quella critica, ma le azioni erano più eloquenti delle parole. Coriolanus in soccorso di Racne, Livia all'uscita più vicina. Quando arrivò a casa, Tigris e la signora nonna si erano un po' riprese dallo shock e volevano proclamarlo eroe nazionale, cosa che lui respinse con un gesto della mano ma che segretamente gradì moltissimo. Avrebbe dovuto essere sfinito, eppure si sentiva colmo di energia nervosa e la comunicazione che all'Accademia le lezioni si sarebbero tenute comunque gli diede nuovo slancio. Essere un eroe a casa propria aveva i suoi limiti. Gli serviva un pubblico più numeroso. Dopo una colazione a base di patate fritte e latticello freddo, si avviò verso l'Accademia con la tristezza richiesta dall'occasione. Dal momento che era noto per essere amico di Aracne e che l'aveva dimostrato cercando di salvarla, tutti parevano averlo designato come il primo dolente. Nei corridoi gli giunsero condoglianze da ogni parte, unite alle lodi per le sue azioni. Qualcuno azzardò che si fosse preso cura di Aracne come di una sorella, e Coriolanus, anche se non aveva mai fatto niente del genere, lasciò correre. Non c'era motivo di mancare di rispetto alla defunta. Come decano dell'Accademia, avrebbe dovuto essere high bottom a condurre l'assemblea di tutti gli studenti, ma non si presentò. Al suo posto fu Satiria a parlare di Aracne in termini entusiastici, sottolineando la sua audacia, la sua schiettezza, il suo senso dell'umorismo. Le stesse cose che erano così seccanti in lei, pensò Coriolanus mentre si tamponava gli occhi, e che alla fine avevano causato la sua morte. La professoressa Sickle prese il microfono ed elogiò lui e misura minore Festus per la loro reazione. Ippocrata Lant, la psicologa della scuola, invitò chiunque avesse problemi di elaborazione del lutto a recarsi nel suo studio, specie in caso di impulsi violenti verso se stessi o verso gli altri. Satiria tornò al microfono e annunciò che le esequie ufficiali di Aracne si sarebbero svolte il giorno seguente e che, per onorare la sua memoria, vi avrebbe partecipato l'intero corpo studentesco. La cerimonia sarebbe stata trasmessa in diretta in tutto Panem, motivo per cui gli allievi erano invitati a mostrare un aspetto e un comportamento adeguati ai giovani di Capitol City. Infine, erano autorizzati a stare insieme per ricordare la loro amica e consolarsi l'un l'altro per la sua perdita. Le lezioni sarebbero riprese dopo pranzo. Dopo l'insipida insalata di pesce con pane tostato mangiata a pranzo, i mentori dovevano incontrare nuovamente il professor Demiglos, anche se in realtà nessuno ne aveva voglia. Non fu d'aiuto che per prima cosa Demiglos avesse pensato bene di distribuire una scheda dei mentori aggiornata con il nome dei tributi dicendo «Questo dovrebbe rendere più semplice tenere traccia dei vostri progressi nei giochi». Decimi Younger Games Mentori incaricati Distretto 1 Maschio Facet Livia Kervio Femmina Velverin Palmira Monti Distretto 2 Maschio Marcus Seianus Plint Femmina Sabin Florus Friend Distretto 3 Maschio Cirque Io Jasper Femmina Tesli Urbanus Canvil Distretto 4 Maschio Mizen Persephone Price Femmina Coral Festus Creed Distretto 5 Maschio High Dionysius Fling Femmina Soul Ifigenia Moss Distretto 6 Maschio 8 Apollo Ring Femmina Ginny Diana Ring Distretto 7 Maschio Trich Vipsania Sickel Femmina Lamina Plinius Harrington Distretto 8 Maschio Bobbin Juno Phipps Femmina Wovi Ilarius Heavensby Distretto 9 Maschio Panlow Gaius Brin Femmina Schiff Androclus Anderson Distretto 10 Maschio Tanner Domizia Wimsywick Femmina Brandy Arachne Crane Distretto 11 Maschio Mortifer Clemencia Dovecoat Femmina Dill Felix Ravenstil Distretto 12 Maschio Jessup Lisistrata Vickers Femmina Lucy Gray Coriolanus Snow Coriolanus Come molti altri Intorno a lui Cancellò con un gesto Automatico Il nome della ragazza Del distretto 10 E poi Avrebbe avuto senso Farlo anche con quello Della sua mentore Ma sembrava una cosa Diversa Induggiò per un attimo E poi lasciò perdere Almeno per il momento Gli pareva piuttosto Insensibile Eliminare Arachne Dall'elenco Con un tratto di penna Dopo 10 minuti Giunse un biglietto Dalla presidenza Con cui si ordinava Lui e a Clemencia Di uscire dall'aula E di presentarsi Subito a rapporto Alla cittadella Poteva essere Solo a seguito Della sua proposta E Coriolanus Provò un mix Di esaltazione E nervosismo Alla dottoressa Goal Era piaciuto Il suo lavoro Non l'era piaciuto Affatto Cosa significava Quella convocazione Clemencia Era molto seccata Che lui non si fosse Preoccupato Di dirle niente Del progetto Non posso credere Che tu abbia messo Per iscritto Una qualche proposta Con il cadavere Di Arachne Ancora caldo Io ho pianto Tutta la notte In effetti I suoi occhi gonfi Lo confermavano Ben Che io riuscivo A dormire Obiettò Coriolanus Dopo averla tenuta Stretta Mentre moriva Lavorare Mi ha impedito Di andare fuori Di testa Lo so Lo so Ognuno affronta Lutto in modo diverso E non era Quello che intendevo dire Sospirò Quindi cosa c'è In questa proposta Che dovrei aver scritto Anch'io A una rapida occhiata Sembrava ancora seccata Mi dispiace Volevo dirtelo È roba abbastanza Elementare E in parte Ne abbiamo discusso In gruppo Senti Ho già avuto Una nota di demerito Questa settimana Non posso permettermi Che ci rimettano Anche i miei voti Ci hai messo Il mio nome almeno Non voglio dare L'impressione Di essere stata Troppo debole Per fare la mia parte Disse Non ci ho messo Il nome di nessuno È un progetto Della classe Più che altro Coriolanus Alzò le braccia Al cielo Esasperato Sinceramente Clemmy Pensavo di farti Un favore D'accordo D'accordo Disse lei Più conciliante Immagino Di essere in debito Con te Però Avrei voluto Perlomeno Avere la possibilità Di leggerlo Tu coprimi Se comincia A farci il terzo grado Certo E comunque È probabile Che le farà schifo Rispose Cioè Penso che sia Un lavoro Abbastanza valido Ma lei agisce Secondo una logica Tutta sua È vero Concordò Clemenzia Credi che a questo punto Ci saranno Gli Hunger Games Non ci aveva pensato Chissà Con la storia Di Aracne E poi il funerale Se si svolgeranno Lo stesso Saranno almeno Rinviati Presumo Tanto lo so Che a te non piacciono A te sì Piacciono a qualcuno In realtà Chiese Clemenzia Magari Si limiteranno A rispedire i tributi A casa loro L'idea non era Del tutto sgradevole Se pensava Lucy Gray Si chiese Come le conseguenze Negative Della morte di Aracne Stessero influendo Su di lei Avrebbero punito Tutti i tribuni Avrebbero permesso A lui di vederla Sì Oppure Ne faranno Dei senza voce O robe del genere Disse Clemenzia È orribile Ma non quanto l'arena Voglio dire Io preferirei Essere viva Senza lingua Piuttosto che morta Tu no Ah certo Ma non sono sicuro Che lo preferirebbe Il mio tributo Replicò Coriolanus Si può cantare Lo stesso Senza lingua Non lo so Forse Erano arrivati Ai cancelli Della cittadella Questo posto Mi faceva paura Quando ero piccola A me la fa ancora Disse Coriolanus E lei si mise a ridere Al posto di guardia Dei pacificatori Le loro retine Vennero passate Allo scanner E confrontate Con gli archivi Di Capitol City Presero loro Gli zaini E una guardia Li scortò Per un lungo Corridoio grigio E in un ascensore Che sprofondò Per almeno 25 piani Coriolanus Non era mai stato Tanto sotto La superficie E stranamente Scoprì che gli piaceva Per quanto amasse L'attico degli snow In tempo di guerra Si era sentito Molto vulnerabile Durante i bombardamenti Lì invece Aveva l'impressione Che niente Potesse raggiungerlo Le porte Dell'ascensore Si schiusero Su un enorme Laboratorio aperto File di tavoli Adibiti a progetti Di ricerca Macchinari sconosciuti E teche di vetro Si allargavano In lontananza Coriolanus Si girò Verso la guardia Ma la donna Fece loro cenno Di entrare E poi Li lasciò lì Senza fornire Ulteriori indicazioni Andiamo? Chiese a Clemenzia Cominciarono a muoversi Con prudenza Nel laboratorio Ho l'orribile Presentimento Che finirò Per rompere Qualcosa Sussurrò La ragazza Camminarono Accanto a una parete Alta più di 4 metri E interamente Composta Da teche di vetro Al loro interno Diverse creature Alcune conosciute Altre modificate Al punto che Difficilmente Sarebbe stato possibile Classificarle Vagavano Ansimavano E si dimenavano Chiaramente infelici Zanne Artigli E pinne Sovradimensionati Sfioravano Il vetro Al loro passaggio Un giovane Con il camice Li fermò E li guidò Fino al settore Del laboratorio Dove le teche Ospitavano i rettili Trovarono lì La dottoressa Goal Impegnata A esaminare Un grande terrario Pieno di centinaia Di serpenti I loro colori Vivaci Non erano Affatto naturali La pelle Quasi brillava Nei toni fluorescenti Del rosa Del giallo E del blu Non più lunghi Di un righello E non più grossi Di una matita Si contorcevano Formando un tappeto Psichedelico Che copriva Il fondo Della teca Ah eccovi qui Disse la dottoressa Goal Con un sorriso A trentadue denti Salutate i miei Nuovi cuccioli Ciao Disse Coriolanus Avvicinando il viso Al vetro Per vedere Il groviglio Sinuoso Gli ricordava qualcosa Ma non sapeva cosa C'è un motivo Per i colori Chiese Clemenzia C'è un motivo Per tutto o per niente Dipende dalla tua visione Del mondo Rispose la dottoressa Goal Il che mi porta Al vostro progetto Mi è piaciuto Chi l'ha scritto? Solo voi due? O è intervenuta Anche la vostra Sfacciata amica Prima di farsi Tagliare la gola? Clemenzia Strinse le labbra Turbata Ma subito dopo Coriolanus Vide i suoi lineamenti Irrigidirsi Non si sarebbe Fatta intimidire L'abbiamo discusso Tutti insieme In gruppo E Aracne Aveva intenzione Di contribuire A metterlo per iscritto Ieri sera Ma poi Come ha detto lei Sì Aggiunse Coriolanus Però voi due Avete continuato È così? Chiese la dottoressa Goal Esatto Disse Clemenzia L'abbiamo scritto In biblioteca E io l'ho stampato A casa ieri sera Poi l'ho dato A Coriolanus Perché stamattina Lo consegnasse Come da incarico La dottoressa Goal Si rivolse a Coriolanus È andata così? Coriolanus Si sentì messo Alle strette In effetti L'ho consegnato Questa mattina Sì Beh Solo ai pacificatori Di guardia Non mi hanno permesso Di entrare Rispose lui Evasivo C'era qualcosa Di strano In quelle domande È sorto Qualche problema? Volevo solo Accertarmi Che ci aveste Lavorato tutti e due Disse la dottoressa Goal Posso mostrarle Le parti Che abbiamo discusso In gruppo E come sono state Sviluppate nella proposta Suggeri lui Sì Fallo Hai portato una copia? Clemenzia Guardò Coriolanus Con aria ansiosa No Non l'ho portata Rispose il ragazzo Non era entusiasta Che Clemenzia Gli scaricasse Tutta la faccenda Sulle spalle Quando lei Era stata Troppo scossa Anche solo Per aiutarlo A scrivere Il progetto Tenuto conto Soprattutto Che era uno Dei suoi rivali Più temibili Per i premi Dell'accademia Tu? Ci hanno preso Gli zaini Clemenzia Si rivolse Alla dottoressa Goal Magari Potremmo usare La copia Che abbiamo dato A lei Beh potremmo Ma mentre ero A pranzo Il mio assistente L'ha usata Per rivestire Proprio questa teca Disse la donna Con una risata Coriolanus Abbassò lo sguardo Sull'ammasso Di serpenti Che strisciavano E facevano Saitare la lingua In effetti Intravide Alcune frasi Del suo lavoro In mezzo All'espire E se la recuperaste Voi due Propose La dottoressa Goal Sembrava un test Uno strano test Da parte Dell'altrettanto Strana dottoressa Goal Eppure E in qualche modo Pareva pianificato Ma non aveva idea Per quale scopo Lanciò Un'occhiata A Clemenzia E tentò Di ricordare Se avesse paura Dei serpenti Però Non sapeva Nemmeno Se ce l'avesse lui Non c'erano serpenti Nel laboratorio Della scuola La ragazza Rivolse alla dottoressa Goal Un sorriso A denti stretti Certo Infiliamo Semplicemente La mano Dallo sportello In cima La donna Tolse L'intera lastra Di copertura Oh no Facciamo un po' Di spazio Signor Snow Perché non cominci tu Coriolanus Mise dentro La mano Con lentezza Sentendo il calore Dell'aria Riscaldata Così Muoviti Pian piano Non disturbarli Lo istruì La dottoressa Goal Strinse il bordo Di un foglio E lo fece Scivolare ad agio Sotto i serpenti Che tornarono Ad afflosciarsi L'uno Sopra l'altro Ma non parvero Farci troppo caso Non credo Si siano neanche Accorti di me Disse a Clemenzia Che aveva La faccia Un po' verde Vado io allora Allungo la mano Nella teca Non ci vedono molto bene E ci sentono ancora meno Spiegò la dottoressa Goal Ma sanno che ci sei I serpenti avvertono Il tuo odore Con la lingua E questi ibridi Ancora più degli altri Clemenzia Uncinò un foglio Con l'unghia E lo sollevò I serpenti Si agitarono Se ti conoscono Se hanno fatto Associazioni gradevoli Con il tuo odore Una teca calda Per esempio Ti ignorano Un nuovo odore Invece Qualcosa di estraneo Sarebbe una minaccia Disse la donna Dovresti cavartela Da sola ragazzina Coriolanus Aveva appena cominciato A fare due più due Quando vide L'espressione spaventata Di Clemenzia Tirò fuori La mano di scatto Dalla teca Ma non prima Che cinque o sei Serpenti fluorescenti Le conficcassero I denti Nella carne